Il 24 giugno nel bellissimo salone del Circo L'Unione di Lucera si è svolto il saggio finale di tutti gli allievi dell'Associazione Musicale Euromusica che con i loro strumenti hanno dato prova di bravura e passione. Il presidente dell'associazione, la professoressa Anna Rita Martire, supportata dal professor Francesco Fasano e con la proficua collaborazione dello psicologo e psicoterapeuta dottor Luca Picciuto ha allietato il pubblico in sala rimasto stupito dalla bravura dei ragazzi. A cominciare dai più piccini fino ai più grandi che hanno mostrato una vera disinvoltura con i loro strumenti, piano, violino e percussioni. Perché la musica è un momento fondamentale per la crescita sana di tutti i nostri ragazzi e riesce a colorare la vita di amore e passione.